L'estate di quell'anno mi sono imbattuto in un fenomeno sorprendente, il mistero dei pinguini, il mistero della sorellona. Ciao a tutti ragazzi, sono Yomi Shan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di parlarvi di un nuovo film animazione, che tra l'altro dovrebbe uscire nelle nostre sale italiane il 20 e il 21 novembre, quindi tra pochi giorni. Si chiama Penguin Highway, è un film diretto da Hiroias Ushida ed è stato estribuito lo scorso agosto in Giappone. Questo film tra l'altro è stato anche vincitore del Japan SF Grand Prize ed è stato uno tra i film più visti in Giappone lo scorso estate. Quindi non è soltanto questo da avermi, diciamo, incuriosito e appassionata alla storia, ma soprattutto anche mi ha colpito la particolarità della storia, ma anche la particolarità dei personaggi, dei pinguini soprattutto, del loro mistero legato soprattutto alla loro apparizione nella città natale dei nostri due protagonisti, che infatti dopo vi dirò. È un film veramente interessante, mi hanno colpito soprattutto i disegni, se avete la possibilità di vedere il trailer si vedono molto bene. E questi pinguini disegnati veramente molto bene, che danno come un'idea, un'atmosfera magica, interessante, ma anche soprattutto misteriosa alla storia. E diciamo che la trama si concentra prevalentemente su due protagonisti, che sono Aoyama, un ragazzo di 10 anni, e la sua sorellona, viene chiamata in questo modo. Aoyama è un ragazzo serio e diligente, vede il mondo in maniera diversa rispetto ai ragazzini della sua età, e si diverte soprattutto a scrivere i suoi pensieri, la sua notazione e soprattutto anche i suoi esperimenti su un apposito quaderno, che tiene con sé con molto affetto. Aoyama tra l'altro rimane affascinato dalla presenza di questi pinguini, perché un giorno appaiono misteriosamente nella sua città, però come sono apparsi, misteriosamente scompaiono a loro volta. E ricompariranno tra l'altro, e daranno ancora più un'idea di magia all'interno della città, quando la sua sorellona lancerà una bibita, e questa bibita si trasformerà in un pinguino. E da allora diciamo che il nostro protagonista Aoyama comincerà a nutrire dei forti sentimenti verso questi pinguini, ma soprattutto dei forti dubbi, e cercherà in tutti i modi di scoprire il mistero legato a questi personaggi, personaggi magici. Quindi una trama veramente particolare, che sono veramente molto curiosa di vedere. Devo dire che non conoscevo Iroias Ushida, e da quel coletto ha vinto anche diversi premi con i suoi lavori, quindi sono ancora più contenta e curiosa di scoprirli, di conoscerli. Tra l'altro ho letto che anche il logometraggio di Penguin Highway è stato realizzato dallo studio Colorido, e anche questo devo dire lo conoscevo poco, e quindi sono molto curiosa di conoscerlo ancora meglio. Io non vedo l'ora di andare a vedere questo film, proprio per farvi sapere anche le mie opinioni al riguardo. Tra l'altro dovrebbe uscire anche a gennaio Voglio mangiare il tuo pancreas, anche quello devo dire mi incuriosisce, però è leggermente diverso per quanto riguarda il genere, è più drammatico, e tratto un argomento veramente particolare e intenso, però di questo me ne parlerò meglio più avanti. Bene ragazzi, con questo mi si è mai detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto, e fatemi sapere con un commento qua sotto se qualcuno di voi conosceva questo film, o se lo andrete a vedere oppure no. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Grazie.